Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, voglio scusarmi se ieri non ci sono stati appunto nessun video ma diciamo che ho avuto un impegno a quattro zampe che appunto se mi seguite su Instagram sapete già cosa intendo E niente ragazzi, oggi è uscito come da schedule appunto si sapeva il nuovo Species Field Guide che questa volta riguarda i Cieli of Isis, andiamo a vederlo The Seelophysis is a perfect representation of the early theropods, an opportunistic carnivore, a nimble and tireless threat, with a jaw full of sharp serrated teeth Bene ragazzi che dire, era davvero abbastanza interessante, abbiamo visto anche la meccanica appunto di caccia E come vi avevo detto io nei commenti mi avete chiesto se secondo appunto secondo me i carnivori come funzionerà appunto come mangeranno E appunto come vi avevo detto io hanno rimesso alla fine la capra e me l'aspettavo sinceramente L'attacco mi preoccupa un po' perché sembra quello vecchio anche se è leggermente diverso ma non lo so eh ragazzi E ora ce lo andiamo a rivedere rallentato e vediamo tutti i dettagli Ok va bene il solito marchio, lo sappiamo già ragazzi, Jurassic World Evolution 2 Species Field Guide E tra l'altro abbiamo l'ambiente che è cambiato, è quello del deserto, a differenza di quello alpino che abbiamo avuto fino e mo' Sempre terrestre Eccolo qua, i primi tre che abbiamo ce ne sta uno fermo, uno che cambia, uno che si gratta, molto simpatico Questa skin mi piace davvero molto, è diversa da quello che abbiamo visto sul sito Sono tutti e tre uguali, se vedete i modelli c'hanno questa linea qui centrale che sembra tipo come se sottolineasse le ossa della colonna vertebrale Insomma E questa è la mia preferita con il rosso, questa è pure molto simpatica Qua dietro è un po' più chiara, pure se notate la striscia qui è diversa, queste due sono tutte e due arancioni Invece questa è marroncino E mi piace il modello, è bellissimo, devo essere sincero, dall'altro le piante dietro sono diverse Ok, questo è sempre verde ma c'ha sempre la solita striscia E ho visto una cosa, fate un attimo di vedere perché può essere pure che in realtà non è come dico io Vediamo un attimo se è come dico io Pensavo ci fosse un errore di animazione, invece no Ok, questa è carina come animazione di interazione tra di loro Molto simpatica, ok, tutti due si scuotono simpatiche Ecco qua Questa è l'animazione d'attacco che mi preoccupa sinceramente assai Perché mi ricorda quella dei veloci raptor del gioco vecchio Che alla fine usavano tutti i carnivori piccoli per appunto cacciare le capre Rivediamolo un attimo Vedete, mette appunto le zampe posteriori davanti E lo afferra e che ricorda comunque sempre i raptor Questo mi preoccupa per esempio, sono onesto con voi ma Alla fine è una bella animazione comunque Non clippa tra l'altro il collo, vedete qua Quando lo acchiappa Non sembra che la bocca clippa attraverso la capra Come succedeva con il gioco precedente Con molti carnivori perché appunto l'animazione era basata su un modello dei veloci raptor Può essere che adesso le varie animazioni sono basate sui vari dinosauri Boh Ok, ecco qua che fa il suo verso Eh sì, proprio questo ragazzi, il modello è bellissimo, ripeto Che ha fatto la fine? Ah, dà un morsetto tipo aggressivo Boh, ok ragazzi, questa era la fine Allora mi aspettavo una meccanica di caccia di gruppo Ma a quanto pare, a meno per cacciare le capre Cacceranno appunto, come abbiamo visto nella clip qui Che la faccio rivedere perché secondo me è fondamentale L'abbiamo visto nella clip appunto quella lì La fine la capra la cacciano in singolo Tanto questo è un bellissimo screen, quasi quasi Ce l'ho, lo uso Mmm, bello, mi piace Comunque, aspettate, un'altra cosa che ho notato Adesso non so, aspetta, fammi rivedere Ah, no, ok Qua sembra che vola un po' il pezzo di erba Ma vabbè, questo poi Comunque è un'alfa ragazzi, quindi Allora, volevo dire un'altra cosa Se dietro c'era qualche struttura interessante Ma non sembra, sembra tutto deserto Sì, appunto ragazzi, stanno solo piante Che sono molto belle, vedete queste qua Sono le palme che pure abbiamo visto in realtà Nella parte alpina, se non sbaglio Ma qui le usano 100% Penso che questa sia appunto la pianta principale Insieme ai cactus che puoi usare Poi non lo so se metteranno qualcos'altro Un altro bellissimo sasso Che bello Ecco, vedete questi piantini Sono davvero varie, insomma Tra l'altro, non voglio dire stupidaggini Ma questo e questo O sono lo stesso modello mai girato Perché qua c'è la stessa lunghezza da questo qua Oppure sono, sì, la stessa pianta Ma è un altro modello che puoi piantare Perché è una cosa che succedeva Per esempio con le sequoie C'erano vari modelli di sequoie che potevi piantare Tra quelle più basse Quelle più alte Quelle a gruppo di tre, eccetera, eccetera Penso che una cosa del genere La rimetteranno Pure la gabbia usata dietro E del gioco precedente Quella elettrificata leggera Dovrebbe essere La texture non è cambiata più di tanto Comunque ragazzi Io le adoro Sti modelli Sono davvero bellissimi Sono davvero belli Non posso dire Guardate come sono belli Che bellini che sono E niente ragazzi Io direi che per questo video è tutto La mia analisi è stata molto breve Ma alla fine ve l'ho detto Non ho fatto vedere niente di troppo particolare A parte Il fatto che adesso i carnivori Cacceranno sempre la capretta qui E che ci sono bei cactus dietro Bene abbiamo visto anche l'ambiente desertico E niente ragazzi Io vi rimando come sempre ad un prossimo video Che sarà Non lo so su che cosa effettivamente Vedremo, vedremo Quindi ci vediamo nel prossimo video Ciao